Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Oggi siamo proprio al gran completo, siamo in quattro. Allora c'è con noi Diego dei Malasuerte, che conoscerete come nostro amico di Ottolina già da tempo. Poi c'è il regista dell'ultimo video, che uscirà domani 25 aprile, dell'ultimo video singolo dei Malasuerte, Gaza, di cui oggi vi parleremo, Angelo Poli. E iniziamo a condurre il nostro Alessandro, che lo vedete dal lato, io sto muovendo tutte quante le mani dall'altro lato, perché ovviamente è a speculare, ma questo non ci interessa. Andiamo avanti. Ora, iniziamo subito con una domanda che, insomma, partiamo prima con un focus sul singolo. Diego, come nasce questo testo? Come, come, insomma, vabbè, il motivo immagino sia chiaro anche dal titolo Gaza. Però parlaci un po' della canzone e poi ti faccio una domanda, invece, che, insomma, entriamo nell'ambito, ecco, del rapporto tra arte e politica. Allora, il testo era una roba che noi, diciamo, abbiamo scritto, in realtà, già un po' di tempo fa, e che il pezzo è stato inserito in una compilation che era uscita per fare una raccolta fondi per costruire un ospedale in Rojava. Quindi, diciamo, non era attinente alla questione israelo-palestinese nello specifico. E, in realtà, poi era un pezzo che aveva una stesura già da tempo, perché, come dire, la situazione a Gaza non è che è dal 7 ottobre che esiste. Quindi, noi come band avevamo già scritto anche un altro pezzo che parlava di Palestina, che aveva un altro mood, un altro punto di vista. Questo è proprio specifico sulla situazione di Gaza, e cerca fondamentalmente di dare una, come dire, uno spunto emotivo, più che un racconto descrittivo di quella che è la situazione di Gaza. Anche perché, chiaramente, noi siamo un gruppo musicale, non siamo... E quindi, insomma, la nostra prima esigenza è quella di esprimersi proprio da un punto di vista emozionale. E quindi, diciamo, la motivazione era fondamentalmente un'esigenza nostra di parlare di quella situazione come esigenza proprio forte e personale. Ale? Sì, no, no, appunto, io, cioè, volevo prendere un po' spunto da quello che stavi dicendo, per parlare un po' come anticipava Primo Gabi, del rapporto tra arte e politica, perché direi che, insomma, poi voi due avete dedicato buona parte, direi, della vostra vita proprio a questo, avete riflettuto su questo rapporto e quindi volevo sapere, insomma, da Diego o da Angelo, su questo voi come la pensate, come la vivete e, ecco, nel contesto anche del mondo contemporaneo, questo rapporto in che modo viene vissuto o non vissuto? Vado io? Angelo. Allora, diciamo, è un argomento piuttosto complesso, secondo me, nel senso che, a differenza dei malasuerte, nella mia produzione artistica non sempre ho mantenuto una coerenza con le mie idee politiche, non che questo mi abbia cambiato dal punto di vista del mio pensiero, ovviamente, però, diciamo che spesso arte e lavoro e pensiero politico per questioni proprio di mera esigenza pecuniaria, diciamola così, insomma, divergono, ok? Grazie. In questo caso, diciamo che la cosa bella è che io conosco Malasuerte da un sacco di tempo, avrei da tempo voluto fare un video con loro, ci siamo inseguiti per un paio di volte, non siamo mai riusciti a trovare il progetto giusto, questa volta invece la loro esigenza di dare un aspetto visivo a un brano che appunto non è un brano nuovo, ma un brano che ha già qualche anno e che io già conoscevo, perché già avevo sentito e già l'avevo in qualche playlist in ascolto, quindi insomma era un brano che per me non era nuovo e ha coinciso con anche la mia esigenza di cercare di fare qualcosa perché si parlasse dopo il 7 ottobre, ok, di qualcosa che in realtà viene da molto più lontano, quindi riuscire a portare anche oltre al discorso del tenere vivo l'aspetto dell'informazione della cronaca, anche un aspetto proprio di immagini, di identità del popolo palestinese. La cosa bella è che abbiamo avuto un'idea identica, anche se io in realtà l'avevo pensata per un altro progetto con loro, nel senso che quando hanno fatto questa sorta di carovana Cuba io avevo detto a Massi, gira video, fai foto, perché l'idea mia era quella proprio di provare a fare un live loro proiettando addosso queste immagini da Cuba, ok, non potendo andare con loro là a girare. Invece la proposta mi è tornata da loro, senza che io neanche l'avessi proposta, in una forma ancora più forte, perché l'idea è proiettiamoci addosso queste immagini che ci stanno arrivando quotidianamente da Gaza e che ci fanno male anche fisicamente, ce le sentiamo addosso, sulla pelle. Cerchiamo di rappresentare con un'immagine questo sentimento, che è un sentimento comune credo a tutti quelli che un minimo hanno provato ad andare oltre la facciata dell'informazione italiana, che chiaramente non ha mai approfondito. Quindi in questo è stato molto bello e molto spontaneo, perché ci siamo trovati subito, non è che abbiamo dovuto neanche progettare più di tanto. Quindi in questo il rapporto tra arte e, diciamo, visione comune di un sentimento, di una sensazione, di un'idea politica, ha fatto andare le cose in una maniera assolutamente naturale. Senti, Angelo, hai introdotto un elemento importante. Allora, Diego, però su questo volevi dire qualcosa? No, scusami Diego, vuoi dire qualcosa? Certo, scusami. Quindi sì, no, giustamente mi diceva Angelo, mantenersi coerenti, cioè se uno vuole provare a fare di un'espressione artistica un mestiere, in questo sistema economico è necessario per forza fare dei compromessi, a meno che uno non venga da una situazione familiare per cui può benissimo avere fondi a disposizione all'infinito. Cioè se tu vuoi, come dire, il sistema di mercato che ti impone di produrre del materiale che devi vendere è di fatto un dispositivo che disinnesca la possibilità di dire il cazzo che ti pare. Perché poi non lo puoi monetizzare e non potendolo monetizzare non hai poi le risorse sufficienti per banalmente pagare l'affitto, le bollette, le tasse, farti una famiglia, eccetera, eccetera. Quindi o fai un altro lavoro col quale fai la legna e poi riesci a dedicarti alle tue cose liberamente, però anche questo è un problema, perché comunque l'arte ha bisogno della costanza e della quotidianità. Uno non è che può suonare solo tre volte l'anno, uno deve suonare tutti i giorni. Cioè se no poi non hai, perdi il linguaggio, perdi quella capacità di esprimerti attraverso il mezzo artistico. Vale per la musica come per qualsiasi altro mezzo. E quindi è una condizione tra l'incudine e il martello di quelle che sono le tue esigenze profonde di persona che prova ad esprimersi attraverso l'arte, quale che sia, e quelle che sono le esigenze invece di doverla per forza monetizzare, quindi di dover tradurre quel tempo e quelle energie che tu usi in qualcosa che diventi soldi, per forza. Quindi questo è uno dei dispositivi egemonici che il capitalismo usa per sterilizzare poi le forme artistiche in libera espressione, perché tu, cioè, in qualche modo ci dai faconti. Infatti su questo proprio volevo farvi una domanda, scusami Ale, però su questa cosa qui la volevo fare perché hanno parlato tutti e due della questione, cioè della vicenda economica, quindi in qualche modo di come l'arte venga anche reificata, mercificata, viene assorbita dal mercato, il mercato la stritola, ne tramuta anche le intenzioni originate magari, no? Cioè tu dici A, però poi da quello ne nasce Bici, da un lato quando uno produce dei contenuti per il pubblico è normale che ci sia anche un riutilizzo e un cambio se vuoi dei significati, però certo quando questo avviene unicamente a fine di vendita c'è il mostro naturalmente dell'arte. Quindi la domanda che vi voglio fare è proprio questa però, al di là della necessità di fare dei compromessi e di affiancare, quindi questi più o meno ognuno di noi, ogni persona vive dei compromessi e quindi è normale farne. Però la domanda che vi faccio è proprio come il mercato influenza le scelte creative, cioè vi è un rischio reale di essere anche emarginati se non si risponde a determinate logiche? Su questo vorrei il parere di tutti e due, magari iniziamo sempre da Angelo e poi Diego. Allora, assolutamente sì, nel senso che, allora, c'è nel caso mio specifico, io mi occupo di regia televisiva, principalmente regia di eventi. Diciamo che il videoclip è una sorta di isola felice che cerco di mantenermi, ma che è un po' un esercizio che faccio per non perdere l'abitudine anche a pensare da un punto di vista creativo in una determinata maniera. Quello che è invece il mio ruolo nel televisivo e nel video un po' più ufficiale, faccio fatica a chiamarlo arte, è proprio un mestiere, il mio ruolo diventa un ruolo molto tecnico, ok? Io sono partito in realtà dall'Accademia di Belle Arti, facendo pittura, sperimentando un sacco le videoinstallazioni e sono poi finito nel tritacarne di un processo produttivo che è molto, molto definito, in cui il ruolo del regista non è il regista come tutti ci immaginiamo, per esempio, nell'ambito cinematografico, il Deus Ex Machina, che decide tutto. Al contrario, nella TV il regista è un ruolo prettamente tecnico, dove il tuo parere e la tua visione conta fino a un certo punto, conta la tua capacità di saper fare nei tempi, nei modi, con le risorse che hai, il prodotto migliore possibile, ma di contenuto se ne mette veramente poco. Ogni tanto capita di togliersi l'ospizio, di mettere qualche magari piccola citazione che viene colta da pochi, però per il resto è un ruolo appunto tecnico che si, oltretutto che si impara sul campo, quasi esclusivamente, perché è difficile che qualcuno ti insegni a fare la regia. Hai degli strumenti per capire il media in sé, dopodiché devi capire cosa ti funziona, cosa non ti funziona sulla tua pelle. E questo chiaramente ti obbliga non solo ad avere delle aspirazioni anche completamente differenti da quelle per cui probabilmente uno, almeno nel mio caso, per cui io sono partito cercando di fare questo tipo di percorso, di fare questo tipo di lavoro. Però appunto, venendo dal mondo dell'arte visiva di altro tipo, in cui mi sono sempre sentito invece molto libero, cerco di mantenermi dei piccoli spazi di libertà in cui portare avanti e magari mettere a frutto anche un po' dell'esperienza che ho fatto nell'ambito lavorativo. Diego? Sì, no, appunto, io in parte avevo già espresso un po' questa cosa qui. è appunto la ragione per cui si fanno delle scelte artistiche fondamentalmente. Una delle cose che poi alla fine contraddistingue l'essere umano come specie è proprio la necessità di, come dire, trasformare le proprie emozioni, quello che sente, in condivisione con gli altri, anche attraverso appunto la parte artistica, le arti. Quindi, in questo senso, la necessità di una persona di trovare quel tipo di possibilità espressiva che vale sia per chi l'arte la fa che per chi poi la ascolta, la vede, la guarda, la tocca, sia da parte di chi è produttore che fruitore di quella cosa. E già sto usando due categorie merceologiche, ok? Però, appunto, nasce da un'esigenza profonda per cui tu non puoi fare a meno, cioè non riesci a stare senza dire quella cosa, senza trasformarla in qualcosa che colga l'empatia e l'emotività di altri esseri umani. Che a prescindere se tu quella roba lì la vendi, non la vendi, cioè non ha niente a che fare con le dinamiche di mercato, non ha un valore monetario, non ha un valore economico, non si misura la grandezza di un artista in base a quanto vende o a quanto valgono le sue opere. Questa cosa qui è, appunto, un ragionamento egemonico che abbiamo introiettato, come abbiamo introiettato un sacco di altre cose, nel sistema capitalistico e nel neoliberismo ancora di più. Quindi, appunto, non smetteremo, ecco, cioè non è che siccome non ci si guadagna una lira o dobbiamo fare altre cose, smetteremo di farla, perché sarebbe come smettere di tirare, non so come dire, cioè non puoi evitare di fare quella cosa lì. Anzi, posso aggiungere, Diego, che a me capita spesso proprio di avere, quando ho questa, la chiamerei quasi urgenza, no? Di condividere, di comunicare, di esprimermi in questa maniera che chiaramente non trova sfogo nell'ambito lavorativo, mi trovo a lottare per trovare il tempo necessario da dedicare a questa cosa rubandolo alla vita familiare, a quella lavorativa stessa, cioè cercando di mettere questa cosa davanti a tutto e che crea anche dei grossi problemi a volte. e però appunto verrebbe quasi da pensare che nella normalità della vita di una persona viene prima il dovere lavorativo e poi nello spazio, nel tempo libero, ci si può dedicare ancora. Per me è spesso il contrario, cioè io, tornando proprio al video di malasuerte, io per una settimana non ho fatto altro, ho cercato di sbrigare tutte le faccende lavorative e personali nel minor tempo possibile per riuscire a mettere la testa su questa cosa e dedicare tutto il tempo necessario per che uscisse in tempo per appunto il 25 aprile e per che avesse esattamente la qualità e l'aspetto che tutti noi che abbiamo partecipato, insomma, ci aspettavamo. Perché tu intanto al pubblico dico Diego evidentemente ha avuto un attimo una perdita di linea, si sta riconnettendo, lo vediamo giù, adesso ve lo facciamo rientrare. Eccolo, come vedete sta rientrando e vabbè è il bello, insomma, di registrare. Comunque, Angelo, perché tu hai registrato ovviamente il video di Gaza dei malasuerte che ricordiamo il nostro pubblico sarà appunto verrà rilasciato attraverso i social dei malasuerte. Eccolo, Diego è riuscito a rientrare con noi. Comunque verrà rilasciato il video di Gaza, il singolo verrà rilasciato tramite i social dei malasuerte. Lo potrete andare a vedere su YouTube e vi lasceremo il link in descrizione sotto al video. Quindi, se volete andarlo a vedere e non sapete dove trovarlo, lo trovate su tutti i social dei malasuerte. Se siete ancora più pigri e volete il link diretto, ve lo trovate in descrizione qui sotto al nostro video. Ale, volevi fare un'ultima domanda? Sì, no, io, sempre rimanendo un po' sui discorsi che si facevano, perché comunque sono interessanti. Poi, diciamo, a Ottolina non abbiamo tante occasioni per parlare, appunto, di queste cose, dell'industria musicale, rapporti tra te e politica, eccetera, eccetera. Quindi mi interessava... Sono sempre domande un po' generale, quindi poi, insomma, rispondete come vi viene a voi. Però voi ci avete raccontato, diciamo, cosa significa fare arte oggi da persone che, appunto, comunque fanno anche altro nella vita, hanno quest'urgenza, però, di esprimersi e quindi lo fanno, diciamo, al 100% per passione. Nell'industria musicale, invece, oggi, un po', ce lo dicevate, che ovviamente dominano le logiche capitalistiche, eccetera, eccetera, ma che tipo... Parliamo dell'industria musicale. Che tipo di arte si fa? Perché forse è anche sbagliato dire che non è politica, cioè uno guarda... Perché apparentemente uno guarda, mi so, Sanremo e dice, ah beh, non ci sono canzoni politiche, però, invece, cioè, sono profondamente politiche, no? Cioè, le tendenze artistiche, anche apparentemente in politiche, sono comunque, proprio per questo, fortemente politiche, mi verrebbe da dire. Cioè, voi, che riflessione viene da fare rispetto un po' alle correnti musicali e al funzionamento, diciamo, anche dell'industria dell'intrattenimento a livello musicale, quello, diciamo, per il grande pubblico, quello di massa? Diego, Angelo, come... Sì, sono politiche nella misura in cui, chiaramente, sono figlie del tempo in cui vivono e quindi, eh, stanno a supporto e a sostegno dell'egemonia culturale dominante. Il mainstream è mainstream dappertutto. Da una parte, appunto, è questa esigenza di... Anziché partire da un'esigenza, magari, personale di racconto, c'è la volontà, invece, di, eh, andare incontro a quelle sole esigenze di mercato per, appunto, fare più soldi possibile, perché quella è la possibilità. E quindi, come faccio a fare... a produrre accumulazione capitalistica? Attraverso la musica, come facendo scarpe. Solo che la musica ha un sistema produttivo diverso dalle scarpe, e quindi imparo quel sistema produttivo lì e attraverso quel sistema produttivo lì faccio un prodotto che vende sul mercato. Ma non nasce... cioè, diciamo, non è... eh, la... il... la conoscenza del mezzo tecnico-artistico-musicale necessario alla... alla propria... appunto, alla volontà di esprimersi attraverso quel mezzo lì. Lo devo conoscere perché mi serve... non è più un mezzo, ma è il fine. Cioè, la produzione di un lavoro non è il mezzo col quale io racconto un'esigenza, ma è proprio il fine. Cioè, il mio fine è produrre della roba. Se tu entri in una dinamica di questo tipo, devi produrre magari due dischi... un disco all'anno, o un disco ogni due anni. E tu non necessariamente hai detto che abbia da dire qualcosa ogni due anni di serio, di sensato, o che per te va bene. Soprattutto, non è detto che tu a vent'anni sia lo stesso... anzi, non è mai così... tu sia lo stesso di... tra dieci anni. Quindi, se hai deciso di interprendere quella carriera, il tuo pubblico, che è abituato a... a avere... tempo fa, insomma, anni fa discutendo con un bravissimo promoter fiorentino e gli dissi guarda, io vedo una grossa mancanza di coraggio da parte di tutti. Da parte dei promoter che organizzano sempre le stesse stagioni con gli stessi artisti. Da parte degli artisti che tutte le volte fanno un disco nuovo suona sempre molto simile a quello vecchio per non disturbare il pubblico. Da parte del pubblico perché va a vedere solo gli artisti che conosce perché non vuole rischiare di andare a sentire qualcosa che magari lo butta male. Da questo punto di vista faccio un parallelo col cinema se me lo consentite velocemente. Anni fa uscì un film... Ma, agghi... Non sappiamo... Gli avremmo concesso... Gli avremmo concesso ma non ce l'ha fatta lui. Se volevi dire qualcosa, Angelo, sì, su questo. Ma sì, sono assolutamente d'accordo. Poi ogni tanto c'è... Restando su Sanremo e restando sul tema di Gaza c'è qualche eccezione tipo Gali che riesce a portare anche del contenuto e della politica in un ambiente dove effettivamente poi fa pur dicendo pochissimo fa un sacco di scalpore. Certo. Però, ecco, diciamo che i grandi palcoscenici a volte hanno anche questo pregio di poter portare anche degli elementi di discussione su un altro piano. Poi, se so, a me poi c'è stato il dettaglio divertente, no? Che il giorno dopo c'era il dibattito con Marani R e quant'altro dove c'era... Non facciamo politica però poi l'anno prima avevano invitato Zelensky quindi insomma anche lì un uso strumentale della... di che cosa sia politica di quanto l'arte possa essere più o meno coinvolta nelle vicende politiche e di come poi questa comunicazione sui grandi palcoscenici rischi spesso anche di diventare propaganda, no? Quindi questo modo è parte diciamo dello spettacolo e Ale volevi chiedere qualcos'altro ad Angelo mentre aspettiamo che si dicono... Ecco, lo sta rientrando in realtà se vuoi chiedere qualcosa ad Angelo insomma una domanda flash gliela facciamo e poi andiamo in chiusura. Sì, sì, sì ora sentiamo un attimo se Diego vuole finire il discorso. stavi facendo l'esempio del cinema quando ci hai salutato. Prego. Diego? Non ci senti? Non ci sento Sì, sì, vi sento Questo va Ah, ok, ok, ok credevo non ci sentissi L'esempio del cinema No, vorrei... Cioè, questa è proprio è la suerte È la mala... Eh, sì, sì, sì È la mala suerte È la mala suerte Sì, sì, è la mala suerte Non ti sentiamo però di eternal sunshine of a spotlight mind che in italiano fu tradotto come se mi lasci ti cancello Sì, sì, sì Quindi una roba per cui io non andai al cinema a vederlo perché credevo fosse una commedia sentimentale perdendomi un capolavoro fondamentalmente Certo Invece è successo al contrario Tantissimi ragazzini andarono a vederlo credendo di vedere una commedia sentimentale e uscirono castornati Ecco, secondo me diciamo lo scopo dell'artista lo scopo dell'arte dovrebbe essere proprio quello dovrebbe far sì che se tu passi attraverso la ricezione emotiva di un'opera d'arte non devi essere più la stessa persona di prima poco o tanto ma non devi essere più la stessa persona di prima non deve essere una cosa che ti fa che ti come dire che ti accompagna dolcemente deve essere una roba che in qualche modo da qualche parte ti scuote e ti ti stimola delle cose che prima non sapevi magari neanche di avere quindi questo dovrebbe essere la propensione ma appunto in un sistema dominato dalle analisi di mercato questa cosa diventa implausibile nemmeno cioè non è concepita non è giusto fare sta cosa chiaro chiaro ragazzi io vi ringrazio tantissimo per questa per questa conversazione anche perché appunto ripeto sono temi che purtroppo a Torina trattiamo poco e spero che avremo diciamo modo di nuovo di parlare ricordo che i malasuerte si esibiranno il 25 a Venezia giusto Diego da quanto mi hai detto ricordo che domani esce il nuovo lo singolo il nuovo singolo Gaza ve ne ha parlato di tutte le specifiche Gabri e quindi niente non ci resta che salutarci grazie mille Diego grazie mille Angelo grazie mille a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti ciao ciao ciao